Il lavoro più grande è la bomboniera del parco che abbiamo voluto regalare alla città di Pescara e sicuramente il Giardino Sensoriale, un'opera importante e imponente che abbiamo potuto realizzare anche grazie a diversi sponsor, in particolare alla Univet di Brescia che due anni fa ha conosciuto il nostro progetto e l'ha abbracciato completamente. Il Giardino Sensoriale è un'opera unica, ancora oggi, io dico purtroppo in Abruzzo, opera unica meta di tanti pellegrinaggi, di bambini, delle scuole elementare ma anche di persone affette da Alzheimer o altre malattie di demenza senile. Veramente è un'opera importante che invito a tutti a visitare. Poi c'è questo mercato delle meraviglie che avete presentato oggi. Sì, nell'ambito di un progetto di implementazione della gestione del parco che si chiama il parco del benessere abbiamo voluto portare all'attenzione della città di Pescara quello che secondo noi forse è un tema fondamentale la rieducazione all'alimentazione. Come possiamo farlo se non dal vivo, se non facendo toccare proprio dalle mani dei bambini, delle persone, i prodotti della nostra agricoltura locale quindi ritornare ai prodotti della nostra terra. Quindi ci sarà tutti i venerdì dalle 5.30 alle 10 almeno in tutta l'estate, poi vedremo in autunno, una serie di stand con prodotti della terra ma anche artigiane che faranno rivedere e riscoprire ai bambini e ai visitatori come si lavorava un tempo. Sicuramente il parco di Risis è un fiore all'occhiello per il nostro comune. Questa nuova iniziativa che porterà ogni settimana, ogni venerdì, dei mercatini che sarà soltanto testimonianza di prodotti locali, soprattutto sarà il fiore all'occhiello per questo parco che già di per sé è un parco stupendo, vissuto molto dai ragazzini, dalle famiglie, dai nonni. Sappiamo benissimo che periodo abbiamo attraversato, però adesso rivedere questo parco vivo è una grande soddisfazione. Ci abbiamo lavorato molto, ma ci siamo riusciti.